Nasce questa mostra per sostenere, valorizzare, promuovere e aiutare ad essere presenti nel territorio regionale le aziende editrici. Se le aziende editrici non sono l'oggetto di questa fiera, non ha senso che la fiera si svolga. Chiediamo che venga annullata la manifestazione di quest'anno della fiera del libro di Macomere, perché è organizzata senza condivisione con gli editori sardi, e fissata in un periodo che non è assolutamente propizio perché è sovrapposto alle date della fiera di Francoforte, cui l'Aes sarà presente anche per volontà della regione. Chiediamo che venga azzerato nelle modalità organizzative, nei contenuti e in tutti gli aspetti che sono stati già messi in campo, tra l'altro alla fine del mese di luglio, in un periodo in cui le aziende stavano chiudendo la propria attività. Quindi è assurdo che si pensi di voler organizzare una mostra del libro che è nata, istituzionalizzata nel 2000, per volere dell'Aes dal 17 al 20 ottobre. Non ci sono neanche i tempi di elaborazione del programma.